Il nostro inviato spaziale Allora c'è il nostro inviato spaziale Direttamente dalla Lapponia Mi dicono Con un'intervista esclusiva A te la linea Grazie della linea TG Wild Oggi come potete vedere siamo in collegamento Dalla Lapponia E più precisamente ci troviamo su un tetto di un'abitazione Dove c'è quell'omino Che scende dai cammini a portare i regali Ebbene in esclusiva ai microfoni Del TG Wild è con noi Il signor Babbo Natale Buongiorno signor Babbo Natale Allora come andiamo? Ah malissimo Tutti in malora Ma dice che non va molto bene Ma in effetti abbiamo sentito delle discrezioni Che lo danno come particolarmente arrabbiato E non gioioso come Consolutamente il nostro Babbo Natale Ci dica come mai? Ma mille neanche l'ora E il 25 doveva darmela paga E mi ha promesso per il 25 Adesso il 21 arriva sti maia E mi lo so proprio capire E finisce tutto in me in cula Allora praticamente diciamo che Vi traduco dal Lapone Che ha detto delle parole dialettali Praticamente dice che Gli hanno promesso un pagamento Per il 25 di dicembre Però i maia Con il loro calendario Dicono che il 21 dicembre Finirà il mondo E quindi diciamo che lui Ha paura di non percepire lo stipendio Che in Lapone si dice Un cula E' un termine particolare Quindi diciamo Lei signor Babbo Natale Si sta sentendo Una sorta di esodato Eso che? Di esodato Ah mi dato non mi ha dato proprio niente Mi ho le rene a dargli a mangiare E i folletti che mi domanda Schei E mi non ho qui niente E vabbè Dice che Ha un po' in difficoltà economica Ma supererà tranquillamente Questo periodo Ed è molto contento Soprattutto di essere stato intervistato Ma cosa sento dire dire? Qui dal TG Wilde Ma cosa sento dire? Ma vai Mona Vai Mona Anzi è molto contento Dice Mona è praticamente Un augurio di buon Natale In Lapone Augurio che rivolgo a tutti voi Spettatori del TG Wilde Qui dalla Lapone è tutto A te la linea in studio Metticissimo Grave Ottima Ottima E' andato Sto andando vero? Si E praticamente dice che i Maya Bla 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 Ma che sento Che cosa sento dire a dire? Ma sei tu mato? Ma a quanto pare i Maya Hanno detto che il 21 Ehm Purtroppo So dire aspettare Ma secondo me Non vede scherzo Ci vediamo Un titolo Ostrega Vai Malora Come zoom Come siamo messi Allora Ostrega vuol dire Che lui è proprio Particolarmente felice Era bella Sai prima avevi detto Questa Rende che non mi magna I folletti Che mi chiede scherzo Magna Capassognolo Stop Stop